Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Il 16 mattina quando partirà Bologna a 30 ci saranno come sempre pattuglie della polizia locale in strada che effettueranno i controlli secondo le norme e secondo le consuetudini. Non è previsto un momento di supercontrollo, un inasprimento o qualcosa di epocale. Lo ha spiegato l'assessore alla mobilità Valentino Rioli che ha anche annunciato novità per quanto riguarda la gestione dei semafori. Conto alla rovescia per l'avvio di città a 30 quando scatteranno le sanzioni ai TG le voci dei bolognesi, la stragrande maggioranza contraria. Viaggiare ai 30 è impossibile, dicono i nostri microfoni. Abbiamo sentito anche lo scrittore Danilo Masotti, secondo cui sarà difficile rispettare il nuovo limite, soprattutto la sera, quando non c'è traffico. Mezza Bologna lagata a causa di tre diverse rotture di tubazioni dell'acqua, i disagi maggiori in viale Pietra Mellara, chiuso anche un tratto di via Rivareno. Sacchi d'acqua per chi è rimasto senza fornitura idrica, intanto sul viale si circola fino al mattino su una sola corsia su tre. Questa mattina si è svolta la commissione viabilità con al centro il tratto di via Ferrarese di località Sant'Anna, Bologna. Presto ci sarà un incontro con i dirigenti di Anas per trovare una soluzione definitiva al problema, ha dichiarato Claudio Mazzetti, presidente della commissione. Sono 563 le telecamere di video sorveglianza attive sulla città di Bologna. Di queste 93, quindi una su sei, sono guaste o comunque registrano immagini non utilizzabili. Sono numeri ufficiali forniti dalla Polizia Locale di Bologna dopo un'interrogazione del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Buonasera, ben ritrovati e conto alla rovescia dunque per Bologna a città 30. Il 16 scatteranno dunque le sanzioni, ma il 16 quando partirà a città 30 ci saranno come sempre pattuglie della Polizia Locale in strada che effettueranno i controlli secondo le norme e secondo le consuetudini. Ha detto questa mattina l'assessora alla mobilità Valentina Orioli non è previsto un momento di supercontrollo, un inasprimento o qualcosa di epocale ha tenuto a specificare, ma sentiamo. Siete, i commercianti chiedono di posticipare l'avvio delle sanzioni, cioè di non partire il 16. Ma allora, abbiamo scelto il 16 proprio per evitare un po' l'effetto del passaggio dell'anno l'effetto mille, non più mille, insomma, no? Quindi la paura che all'inizio dell'anno nuovo succedesse qualcosa di epocale. Il 16 è un martedì, quindi non corrisponde a nessuno snodo topico. Il 16 mattina ci saranno come sempre pattuglie della Polizia Locale in strada che effettueranno i controlli secondo le norme e secondo le consuetudini. non è previsto, come dire, un momento di supercontrollo, un inasprimento o qualche cosa di epocale. E la città 30 è soprattutto una misura culturale che deve essere accompagnata e la nostra Polizia Locale sarà in campo per accompagnarla. Quindi direi che nessuno deve temere il giorno 16. Cioè il 16 però se uno farà più di 30 sarà multato? Ci saranno in campo dei sistemi di controllo che sono quelli possibili da norma, abbiamo detto in alcuni punti sensibili della città, abbiamo anche detto però che ci sarà un accompagnamento, un'attenzione al confronto con automobilisti, ciclisti, utenti della strada in generale, quindi non c'è affatto questo automatismo. Saranno controlli a campione in alcune zone? Saranno controlli in alcune zone con le pattuglie, con la presenza di persone in strada, come è stato detto. Naturalmente la città è molto grande, le zone che possono essere controllate sono molte, sono quelle in cui il controllo è possibile perché non dappertutto si possono ad esempio fermare gli automobilisti. Io direi che si tratta soprattutto di tararci tutti su un diverso comportamento sulla strada, non di avere paura delle multe. Ma userete anche i telelaser per fare le multe per Città 30? La Città 30, abbiamo detto, non è un tema di multe. Il nostro problema non è fare cassa, non è fare multe indiscriminate ai cittadini. Il nostro tema è provare a convincere i cittadini che la città funziona meglio se andiamo tutti più piano, con maggiore attenzione gli uni agli altri e cerchiamo di usare uno stile di guida più fluido e più rispettoso. In questo si inserisce il tema del controllo, ma il tema è un controllo che si pone in continuità con quello che è stato fatto fino ad oggi, un controllo consueto, normale, attraverso la presenza di pattuglie in strada della polizia locale. Quindi il 16 non è il giorno in cui inizieranno le multe ovunque da parte del Comune di Bologna. Non so come posso dirlo più chiaro di così. Quindi telelaser non li userete? Li useranno quando serve, come sempre succede ed è successo. E con l'introduzione del progetto Città 30 al Comune di Bologna ritocca la gestione dei semafori per dare ancora più vantaggio al trasporto pubblico. Questa mattina siamo stati nella control room. In vista dell'avvio di Città 30 al 16 gennaio, l'amministrazione comunale punta a migliorare i tempi di attesa ai semafori per fluidificare il traffico dei mezzi pubblici e dei mezzi privati. Lo ha spiegato l'assessore alla mobilità, Valentino Rioli, che ha presentato alla stampa la centrale di controllo semaforico che si trova nella sede del Comune di Bologna in piazza Liber Paradisus. Dalla centrale vengono controllati in modo centralizzato 335 incroci regolati con impianto semaforico sui 385 presenti in città. Ci sono 1.272 spire induttive posizionate sotto l'asfalto a livello degli incroci e 34 termocamere installate sopra gli impianti semaforici o di illuminazione che permettono la trasmissione alla centrale di una serie di dati, il numero di mezzi in strada, il ritardo degli autobus ed eventuali stalli in prossimità degli attraversamenti in base ai quali viene adattata la durata del verde e del rosso. In occasione del progetto Città30 stiamo valutando come ottimizzare questo controllo. In particolare daremo priorità agli autobus quando sono al di sopra dei due minuti di ritardo sulle linee portanti del trasporto pubblico. Abbiamo infatti 67 intersezioni che controllano il passaggio degli autobus. Ad oggi hanno priorità con un ritardo superiore ai 4 minuti ma intendiamo migliorare sensibilmente questo sistema di priorità. Per quanto riguarda il trasporto privato intendiamo agire sul miglioramento ad esempio di tutte quelle intersezioni che hanno la possibilità di una svolta a destra separata quindi dando la possibilità di un deflusso continuo. È già stato fatto in alcune zone della città ma intendiamo generalizzare questo sistema. Tra le novità è anche un sistema di pannelli per segnalare i posti liberi nei principali parcheggi della città. Oltre a questo sistema che vi ha raccontato l'assessore Oliori sugli impianti semaforici abbiamo portato questa novità qualche mese fa dei tre parcheggi della città Rivareno, 8 agosto e autostazione dove abbiamo in tempo reale il numero di posteggi liberi che sono in questi parcheggi. Allargheremo a breve perché c'è un'interlocuzione ottima con stazione ai parcheggi P1, P2 e P3 della stazione queste informazioni visibili in open sul sito del Comune di Bologna in open data fruibili da parte di tutti i cittadini consentiranno di avere in tempo reale il numero di posteggi liberi e quindi decidere se avvicinarsi a quel posteggio sapendo di fare lunghe code o se preferire invece un parcheggio che dà molti posti liberi in più. Abbiamo sentito anche gli automobilisti bolognesi sentiamo che cosa hanno risposto. Sa che il 16 partono le mucche? Sì, non so. Cosa ne pensa? Non credo che le potrebbero mai fare perché viaggiare ai 30 è preso che è impossibile per tutti sia per chi lavora che per l'esperienza è impossibile. E quindi è preoccupato? Non si mette la terza di 30 all'ora con le macchine si va oltre senza rendersene conto è impossibile anche perché con il cross contro non si riesce a dare così piano. Coltì, è preoccupato che il 16 scattano le sanzioni? Direi di no rispettare gli orari, rispettare i segnali siamo a posto. Quindi non è preoccupato? Assolutamente. Quindi lei i 30 riesce a farli? Riesce a farli per stare attenti sempre un occhio sul conto chilometro ma direi che è una buona idea. A me mi sembra una cosa da mattia quindi è una cosa che è impossibile. Non è molto utile dai non voglio mica dire che non ci sia la buona volontà però è come aggiustare le strade facendo delle strisce per terra sarà meglio allargarle. Penso che a livello extraurbano quindi fuori dalla città, fuori dalle mura i 30 siano un po' molto limitanti soprattutto se vediamo al giorno d'oggi ci sono biciclette che a momenti vanno più forte delle macchine stesse passano con il rosso pensano di poter fare un po' ciò che vogliono e penso che quello sia il vero danno quello sia il vero problema la viabilità. Tutti questi monopattini penso che introdurre leggi quindi assicurazioni targhe su tutti questi mezzi possa essere molto più producente rispetto a limitare le macchine che con i sistemi dei giorni d'oggi riescono a rilevare pedoni possibili incidenti rallentano da sole si bloccano Capisco che andare ai 30 è difficoltoso però capisco anche che in città io ho dei ragazzi che vanno in moto e sono anche contenta perché gli incidenti ci sono ci sono molte moto molte biciclette quindi se non mettono molti monopattini quindi secondo me la cosa giusta da fare è prima sanzionare o mettere delle assicurazioni o dei caschi protettivi per chi va nei monopattini per chi va su queste che vanno fortissimo Concordo con il discorso di mettere in sicurezza tutti i ciclisti pedoni eccetera però secondo me questa restrizione ai 30 è molto molto pericolosa a parte che è impossibile andare ai 30 vorrei far provare loro cioè chi ha messo in vigore questa norma perché diventa comunque molto difficile cioè io non riesco mai quasi mai a mettere la quarta e poi volevo avvisare tutti i cittadini che comunque non sono solo i vigili a fare le molte ma io ieri in via Zanardi ne ho visti due non so se hanno un laser sopra le auto che comunque cominciano a fare le foto E tra i tanti bolognesi anche lo scrittore Danilo Masotti padre degli Umarels attende di capire che cosa succederà da martedì quando appunto scatteranno le molte Ecco Danilo Masotti ha cominciato il conto alla rovescia per Città 30 si è preoccupato? Sì sono abbastanza preoccupato più caldo della fascia serale di giorno sinceramente non guidando non andando in giro non ho delle grosse problematiche quando guido di giorno è tutto bloccato lo stesso quindi lì non vedo invece la sera è un po' più critica un po' più critica io tutte le zone che frequento tutte le strade che faccio anche se sono delle strade a due o tre corsie sono devo andare a 30 all'ora e niente io anche sforzandomi faccio un po' fatica ecco e cosa pensi di questa cosa di Città 30? Allora io penso che sarà un'occasione unica per far rispettare il limite dei 50 ecco quindi persone magari andranno andranno un po' più piano ma andranno sempre sui 40 ecco sono un po' preoccupato per le multe che arriveranno perché insomma comunque si viaggia sui 41 42 e così e non vedo l'ora di vedere una tua intervista al primo multato senti ma secondo te bisognerà mettere da parte un budget per le multe poi tra l'altro c'è anche il rischio che ti sospendano la patente poi perché con due multe per eccesso di velocità ti sospendano la patente sì saranno delle problematiche perché così io muovendomi comunque molto in bicicletta dovrò stare anch'io più attento perché io sono sempre andato più più veloce dei 30 e quindi bisogna stare veramente veramente attenti saranno mesi duri e si è svolta questa mattina una commissione con la tema il tratto di via Ferrarese di zona Sant'Anna Bologna spesso teatro di incidenti da tempo i residenti chiedono che venga rivisto il limite di velocità ne abbiamo parlato con Claudio Mazzanti presidente della commissione viabilità sentiamo come è andata un tratto stradale al centro di continui confronti rinvii e di nuovo confronti tra due comuni quello di Bologna e Castelmaggiore e l'ente proprietario Anas una doppia curva pericolosissima teatro di incidenti spesso anche mortali che si trova in località Sant'Anna nell'immediata periferia di Bologna da tempo i residenti chiedono che si trovi una soluzione definitiva hanno chiesto autovelox e riduzione del limite di velocità dai 70 ai 50 km orari sono stati tanti gli appelli molti dei quali dai microfoni della nostra emittente l'ultimo a fine dicembre è stato decisivo in quanto è stata subito convocata una commissione con a tema quel tratto di strada noi abbiamo detto questo che intanto richiederemo per l'ennesima volta l'incronto con l'ANAS sia l'assessore Orioli che ha ben spiegato come si muoverà ha ricordato quando insieme facemmo le riunioni con l'ANAS e come erano andate chiederemo un accordo come del resto fu fatto per le case nuove oggi abbiamo un gruppo dirigente nuovo dell'ANAS con tutti i vertici cambiati chissà mai che non portiamo a casa finalmente la sistemazione della strada noi ci siamo lo ribadiamo il tema però è l'altro bisogna strutturalmente cambiare noi speravamo che la società autostrade facesse tutto l'intervento sapendo che era un costo però enorme fra l'intervento case nuove e quello lì ma arrivare sino là con l'eliminazione della doppia curva sapendo i costi e le opere necessarie chiaramente ci ha detto molto gentilmente che l'euro si fermavano lì vista che la proprietà era dell'ANAS come mai non è stata convocata l'ANAS in questa commissione allora l'ANAS non è stata convocata perché noi in fretta e furia abbiamo convocato questa commissione a Bologna e nel territorio metropolitano circolano sempre più automobili ibridi ed elettriche oltre il 60% delle vetture sono di classe Euro 5 ed Euro 6 calano in base agli ultimi dati le immatricolazioni e quanto rivelano indagine condotta da Comune di Bologna e Città Metropolitana oltre il 60% delle automobili circolanti nella città metropolitana di Bologna e nel suo capoluogo sono di classe Euro 5 e Euro 6 un dato che è superiore a quello nazionale fermo al 49% le auto ibride ed elettriche confermano il trend crescente degli ultimi anni registrando un aumento del 33% nella città metropolitana e di un 28% a Bologna in entrambi i territori di riferimento meno della metà delle macchine va a benzina mentre quelle a metano GPL sono quasi il doppio rispetto al dato nazionale le due torri sono a nono posto fra le 12 grandi città italiane per tasso di motorizzazione e a secondo posto nel confronto con le città metropolitane per le autovetture in classe Euro 5 o 6 questa è l'istantanea del parco auto cittadino e metropolitano scattata a 31 dicembre 2022 dagli uffici statistiche del Comune di Bologna e della città metropolitana di Bologna le nuove immatricolazioni sono diminuite nel 14,2% rispetto al 2021 e presentano un minimo storico con livelli inferiore anche al periodo pandemico nonostante questo nel 2022 il parco veicolare è comunque rivelano i dati cresciuto dello 0,8% contro l'1,2% nazionale il tasso di motorizzazione conta in media 62,7 autovetture per ogni 100 abitanti rispetto alla mappa dei comuni quello che registra il valore più elevato è ancora una volta Camuniano con 81,04% autovetture ogni 100 abitanti per quello che riguarda l'alimentazione in termini percentuali le auto a benzina rivela l'indagine sono un fenomeno presente soprattutto in montagna nel capoluogo e nei comuni della cintura a sud del capoluogo i comuni dove è più presente il metano sono nella pianura imolese in particolare al primo posto si conferma medicina con il 14,6% delle auto che vanno a metano l'alimentazione ibrida ed elettrica delle automobili è un fenomeno legato al comune di Bologna e ai comuni della cintura Salazzaro di Savana e Bologna sono secondo città metropolitana e comune i comuni più green con il 9,1% delle auto ibride o elettriche secondo la ricerca infine aumentano le ibride ed elettriche sfiorando quota 18.800 nel 2021 erano 14.635 si registra quindi un più 28,3% pari al 9,1% del totale contro il dato nazionale del 4,4% Disagini al traffico un centinaio fra appartamenti e negozi a secco questa mattina a Bologna a causa di tre diverse rotture che hanno interessato altrettante tubazioni dell'acqua una in viale Pietra Mellara un'altra in via Rivareno e una terza in via Cristoforo Colombo I disagi maggiori sono quelli che interessano i viali nel tratto dalla stazione fino a Portalame dove la rottura di un tubo allagato l'intera strada è sollevato di diversi centimetri l'asfalto ma quello successo all'alba in viale Pietra Mellara non è l'unico guasto alla rete idrica che ha creato problemi a Bologna nella notte ha ceduto infatti anche un tubo in via Rivareno nel centro storico lasciando senza acqua un centinaio di abitazioni sui viali la rottura si è verificata in viale Pietra Mellara all'incrocio con via Cipriani di fronte alla caserma dei Carabinieri l'acqua è fuori uscita sollevando l'asfalto e allagando un lungo tratto di strada la carreggiata diretta verso Portalame è stata chiusa già all'incrocio con via Bovi Campeggi con deviazioni per diverse linee degli autobus circa 200 le utente rimaste temporaneamente a secco per questo era inviato sul posto oltre ai tecnici del pronto intervento mezzi per la distribuzione di acqua potabile ai cittadini sono state fatte verifiche anche sulla stabilità di un albero che si trova nello sparti traffico fra i due lati dei viali a pochi metri dal punto in cui ha ceduto l'asfalto anche in via Rivareno è stato necessario chiudere al traffico la carreggiata nord della strada nel tratto fra piazza Zarita e via San Felice in seguito alla chiusura della tubazione danneggiata per procedere con la riparazione una novantina di utenze in tre edifici sono rimaste senza acqua fino a metà pomeriggio più lunghi i lavori per la sistemazione della strada vista la chiusura anche qui sono stati deviate gli autobus Tipper in transito in via Rivareno una terza rottura alla rete idrica che è venuta ieri in via Cristoforo Colombo in corrispondenza del sottopasso si è trattato di un guasto di lieve entità che ha provocato la temporanea interruzione dell'erogazione dell'acqua per alcune utenze già riparato in serata si apprende che per quanto riguarda la viabilità resta aperta al traffico sul vialo e la corsia su tre il cantiere prosegue a oltranza stasera il ripristino definitivo con asfaltatura in programma nelle prime ore della mattina di domani le cinque persone fra passeggeri e autisti di un bus extraurbano sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri sera a Crespellano il mezzo della linea 651 stava percorrendo la provinciale quando per cause ancora da accertare ha sbandato finendo nel fosso ribaltandosi parzialmente sul lato per soccorrere gli occupanti bloccati all'interno sono intervenuti i vigili del fuoco autisti e passeggeri sono poi stati caricati in ambulanza e portati all'ospedale maggiore con ferite di media gravità sul posto anche carabiniere e polizia locale di Balsamoggia traffico in tilt e questo pomeriggio sullo snodo bolognese a causa di un tilt che ha preso fuoco la viabilità è stata ripristinata solo in serata l'incendio di un camion in A14 ha provocato disagi alla circolazione in tutto il tratto autostradale e tangenziale di Bologna con code iniziati a Borgo Panigale fino al chilometro 19 in direzione sud Ancona l'incendio è avvenuto nel primo pomeriggio e a prendere fuoco sembra per autocombustione è stata una cabina di un mezzo pesante che trasportava ferro l'autista con prontezza si è fermato e dopo essere sceso dal mezzo ha chiamato i vigili del fuoco che sono partiti con diverse squadre dalla comando di via Ferrarese giunti sul posto i vigili hanno provveduto a spegnere le fiamme isolare l'aria e torno al mezzo ma in poco tempo si sono create code e rallentamenti che hanno raggiunto anche i 10 chilometri inevitabili le ripercussioni sulla viabilità urbana scelta da tanti automobilisti per sottrarsi all'incolonamento della tangenziale sul posto dell'incendio si sono recati anche i sanitari del 118 che hanno prestato le cure al camionista comunque uscito il leso dall'incendio presenti anche gli agenti della polizia stradale che hanno supportato il lavoro dei vigili del fuoco e regolato il traffico dopo le prime operazioni di spegnimento e la rimozione di parte del mezzo bruciato la circolazione è ripresa in una sola corsia di marcia ultimate tutte le operazioni la strada è stata riaperta al traffico sei alunni una collaboratrice scolastica di un istituto dell'appennino bolognese sono finiti al pronto soccorso dopo che uno dei ragazzini tutti i minorenni ha utilizzato in aula una bomboletta di spray urticante di peperoncino è successo martedì mattina nella scuola sono intervenuti altra al 118 anche i carabinieri di Castiglione dei Pepoli i militari hanno ricostruito che durante una lezione uno degli studenti aveva spruzzato lo spray da difesa su un quaderno evidentemente senza rendersi conto che la sostanza avrebbe raggiunto anche i vicini di banco alle cure mediche per lievi irritazioni si sono dovuti sottoporre sei alunni tra cui lo stesso ragazzino un addetta della scuola l'interessato si è poi scusato e ha consegnato la bomboletta sequestrata dai carabinieri che hanno segnalato l'autore del gesto alla procura per i minorenni per porto di armi o oggetti atti ad offendere parliamo ora di sicurezze del tanto invocate telecamere di videosorveglianza installate in città secondo i numeri forniti dalla polizia locale di Bologna sono installate su tutto il territorio urbano 563 telecamere una su sei però non funziona vediamo sono 563 le telecamere di videosorveglianza attive sulla città di Bologna di queste 93 quindi una su sei sono guaste o comunque registrano immagini non utilizzabili i numeri ufficiali sono stati forniti dalla polizia locale di Bologna dopo un'interrogazione di Stefano Cavedagna di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a proposito appunto del sistema di videosorveglianza cittadino la polizia locale spiega che su tutta la città sono 563 le telecamere a sistema di cui 497 a tecnologia digitale e 66 analogiche sono suddivise per zone posizionate nelle aree più critiche come parchi e aree a rischio per esempio ce ne sono 50 in zona universitaria 33 al pilastro 25 in piazza 20 settembre 17 in via San Vitale piazza Aldrovandi e porta San Vitale 13 in piazza Santo Stefano così come al parco della Montagnola 16 al giardino Lunetta Gamberini e altrettante ai giardini Margherita Stefano Cavedagna però punta il dito sul numero di impianti guasti 93 appunto un dato troppo elevato secondo Cavedagna questo significa che non si possono contrastare le violenze e la criminalità dice il meloniano senza un sistema capillare diviso da sorveglianza che ricordo è proprietà del comune le forze dell'ordine rischiano di vedere vanificati i loro grandi sforzi troppe vie sono vere e proprie zone franche a partire da piazza dei martiri dove il comune è assente rispetto la quale il 25 gennaio si terrà il consiglio aperto sulla sicurezza chiesto anche da noi Cavedagna conclude ricordando che Bologna secondo le statistiche è tra le città con più reati denunciati in Italia con un piede di porco si è introdotto all'interno dell'istituto comprensivo 5 scuola d'infanzia David Sassoli di Bologna ha rubato due pc portatili ma è stato fermato e arrestato per furto aggravato dai carabiniere del nucleo radiomobile di Bologna si tratta di un 27enne italiano e un 16enne è stato denunciato per furto in un esercizio commerciale un'altra ragazzina minorenne è denunciata per una tentata rapina in un negozio è successo ieri a Bologna in due diversi episodi sui quali è intervenuta la polizia nel pomeriggio in via indipendenza la ragazza aveva tentato di rubare un paio di pantaloni in un negozio e ha colpito alla testa un addetto alla vigilanza che l'aveva scoperta l'altro episodio è avvenuto in zona barca dove il 16enne aveva infranto la finestra di un'attività commerciale per entrare e rubare il fondo cassa e voltiamo decisamente pagina il vicepremiere Antonio Tajani Saranemiglia Romagna tra domani e dopodomani per una visita ufficiale stamattina gli esponenti territoriali di Forza Italia hanno presentato il programma della due giorni di tour del ministro agli affari esteri una visita importante quella del vicepresidente Tajani fondamentale per il territorio emiliano romagnolo anche perché a livello di governo stanno veramente agendo anche a vantaggio della nostra regione mi viene da pensare all'alluvione quindi è molto importante questa visita questo contatto con i territori con tantissime province dell'Emilia Romagna e quindi per manifestare una vicinanza alla popolazione ma anche soprattutto per toccare tutti gli ambiti del territorio dal volontariato alle imprese quindi per attingere anche quelle che sono le necessità in vista delle prossime campagne elettorali che ci aspettano molto intense dalle europee alle amministrative e poi alle elezioni regionali questo è il primo appuntamento dopo il congresso di Forza Italia che ha visto molta partecipazione un tour vero e proprio che parte dalla Romagna e arriva qua in Emilia per parlare dei temi fondamentali l'Emilia Romagna è il centro della politica nazionale tutti i temi che oggi stiamo seguendo in Europa è evidente che vengono trattati perché le imprese Emiliano Romagna hanno bisogno di Europa hanno bisogno del partito popolare europeo che è il partito di maggioranza l'Emilia Romagna è una terra diciamo contendibile vogliamo esserci e vogliamo ricominciare ad essere su tutti i territori sia in Romagna che in Emilia appuntamento di sabato prossimo almeno per quello che riguarda l'Emilia il primo incontro sarà con i nuovi coordinamenti sì con i nuovi coordinamenti eletti dal congresso una conferenza stampa in cui Tajani parlerà di quello che stava dicendo poco fa l'onorevole cioè dell'impegno del governo per la nostra regione e poi lancerà la campagna elettorale per le elezioni europee amministrative regionali e via andare e poi un convegno di cui sono lieto è un convegno organizzato da Conf Cooperative che è l'associazione per la quale io ho lavorato per 40 anni da cui provengo dedicato alla cooperazione internazionale allo sviluppo e al sostegno della pace nel mondo attraverso la cooperazione un break poi di nuovo in studio con altri servizi a tra pochissimo tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni Magica Parrucchieri è molto più di un hair stylist uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine per la cura e la bellezza dei tuoi capelli in una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di estetica Lara rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram Magica Parrucchieri ed estetica Lara via Procaccini 10 telefono 051 36 16 12 051 36 16 06 il patrimonio immobiliare di una famiglia rappresenta i sacrifici di una vita e quando si desidera cambiare la propria casa il timore di sbagliare di svendere di fare il passo più lungo della gamba rende insonni le notti dei proprietari per essere sicuri di fare le scelte giuste non ti affidare nelle mani del primo che incontri fai un confronto un confronto è una cosa utile e intelligente non credi? Mondoree è stata selezionata da importanti partner a livello nazionale e ciò garantisce serietà competenza e trasparenza ai massimi livelli affidati a Mondoree l'agenzia più bella che c'è mangiare sano e buono? semplice fai come me io vado a fare la spesa al mercato coperto campagna amica di Porta Galliera Bologna dove trovo gli agricoltori con i loro prodotti agricoli e le loro eccellenze agroalimentari da portare sulla nostra tavola il mercato coperto campagna amica ti aspetta a Bologna in via Galliera 60C il mercoledì dalle 11 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14 a Bologna c'è un luogo unico per dare spazio allo stare insieme al benessere al tuo stile al tuo svago e alla solidarietà al gusto diamo spazio al tuo tempo e sino al 31 gennaio per il tuo divertimento Via Larga ti aspetta con la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio per la tua pubblicità su etv rete 7 chiama 051 63 81 819 di nuovo in studio parliamo di basket sconfitte in Eurolega per la Virtus che si rende a Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv per 95 a 78 nonostante i 24 punti di Belinelli non basta il miglior per attenuare la stanchezza di una Virtus che crolla nel secondo tempo contro il Maccabi Tel Aviv 95 a 78 per gli israeliani nella ventesima giornata di Eurolega nel deserto parche di Belgrado che ha ospitato la sfida per motivi politici dopo la sconfitta e campionato contro il Reggio Emilia la Virtus è caduta nuovamente nonostante un primo tempo in equilibrio dove la squadra di banchi aveva trovato anche il più 9 nel secondo quarto troppi errori uno stato di forma non ottimale che ha spento la Virtus col passare dei minuti per il Maccabi ci ha pensato Baldwin MVP della giornata ad annichilire le funere 22 punti 8 assist per l'americano che si è tolto il cappello davanti ai 24 di Belinelli confessando nel post gara è il miglior tiratore che abbia mai visto giocare non soddisfatto invece Luca Banchi che non vede di buon occhio il fitto calendario difficile recuperare gli infortunati ha detto è soprattutto impossibile allenarsi in mezzo a partite e viaggi infatti la squadra è già a Istanbul per affrontare domani alle 18.30 l'Efes la Vunera intanto è stata raggiunta in classifica dal Barcellona che ha battuto l'Olimpia Cossa secondo posto però a pari merito che gonfia ancora il petto di orgoglio e questa sera alle 21 torna l'appuntamento ad abitare oggi la trasmissione di approfondimento dedicata ai temi e alle problematiche della casa questa sera si parlerà dell'installazione degli ascensori in condomini più vecchi per venire incontro alle esigenze di che portatore di handicap ma anche a quelle di persone anziane o con difficoltà di deambulazione in particolare si racconterà la storia di Emo Gruppioni disabile che si è conclusa con un lieto fine proprio grazie all'impegno dell'associazione confabitare che a lungo ha sostenuto anche economicamente la sua battaglia appuntamento dunque per questa sera alle 21 circa e sempre questa sera intorno alle 21.20 torna anche Dedalus che avrà come ospite l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini parleremo dei nuovi CAU i centri di assistenza per le urgenze attivi anche a Bologna ma affronteremo anche il tema dell'influenza del covid che in queste settimane si fanno sentire infine parleremo dei conti della regione per quanto riguarda la sanità pubblica appuntamento con Dedalus quindi alle 21.20 circa ed è tutto con questa edizione grazie per essere state con noi a tutti voi una buona serata arrivederci eTV è sempre più online con il nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda che ti circonda a tutti che ti circonda che ti circonda